Figlia mia, renditi sempre più umile per essere gradita al mio cuore. Chiedimi la virtù dell'umiltà tutti i giorni, perché io la concedo a coloro che la chiedono con insistenza. Imitami, figlia mia. Te ne ho dato l'esempio con una vita tessuta di umiltà e di umiliazioni. Molte volte voi credete di possedere la virtù dell'umiltà perché sapete in determinate circostanze mostrarvi umili, ma l'umiltà è molto diversa. La bassa stima di sé e la stima per il prossimo, qualche volta è solo apparente. È molto facile dire al Signore che non si è nulla e capaci di nulla. Che siete solo miseria e peccato, finché nessuno vi conferma queste verità. Ma se appena un superiore o un uguale e tanto meno un inferiore osassero dire ciò che voi stessi dite di voi. Come cambierebbero le cose. Quanti bronci. Quante permalosità. Quante discordie causate da poca umiltà. Figli cari. La porta del paradiso è assai piccola e solo i piccoli vi possono entrare. Ricordate il fariseo e il pubblicano del Vangelo. Meglio un peccatore umile e pentito che un giusto superbo. Poiché la giustizia e la santità non vanno d'accordo con la superbia o, meglio, non esistono veri giusti e veri santi superbi. L'umiltà è la base della santità e il trionfo di essa. Vuoi farti santa. Fatti piccola. Imita la mia santa mamma che volle essere sempre e solo la serva del Signore. Fu conosciuta come la sposa del falegname e la madre di un malfattore, che dopo aver sobillato il popolo morì fra due ladroni su una croce. Eppure aveva di che gloriarsi lei che era la madre di Dio. L'umiltà è la virtù che ti renderà gradita a Dio e agli uomini e che ti permetterà di fare loro del bene in ordine alla tua missione e alla vita eterna. Grazie. Grazie.